Pace bene caro fratello, cara sorella, qui a Greccio San Francesco ha dato vita al primo presepe della storia. Era mosso da un desiderio profondo, vedere in qualche modo con gli occhi del suo corpo la povertà, l'indigenza che aveva dovuto vivere la Santa Famiglia e in particolare il nostro Signore Gesù Cristo. San Francesco aveva ben chiaro che il Natale era un mistero d'amore ma anche di dolore, con tratti di tenerezza e poetici ma anche con elementi drammatici. Innanzitutto tratti di tenerezza, la consapevolezza di Dio che per amor nostro, per amor mio, per amor tuo si è fatto tanto piccolo per entrare nella tua vita, nel tuo cuore, ma dall'altro anche tratti drammatici, appunto la povertà e la sofferenza della Santa Famiglia. Vorrei augurarti due cose dunque per questo Santo Natale, la prima è che tu possa riscoprire quest'amore folle di Dio per te, che bussa al tuo cuore per potervi entrare e per poterlo salvare. E la seconda è che meditare sulla sofferenza vissuta da questa povera famiglia possa aiutarti a rivedere un po' la tua vita, a riscoprire ciò che davvero vale. Vedi, c'è tanta bellezza che Dio ha seminato in te, ma tante volte questa bellezza è offuscata, coperta, pesantita, da tante abitudini sbagliate, da tante cose inutili. Non aver paura di lasciarti rinnovare mente e cuore, di lasciare che il buon Dio tagli quelle zavorre inutili perché tu, pieno d'amore, possa volare. Caro fratello, cara sorella, ti auguro di vero cuore buon Natale. Cari fratelli e care sorelle, amori di buon Natale! Cari fratelli e care sorelle, amori di buon Natale!